Su questo punto penso che spettino al Senato rispetto alle priorità di compiti che gli verranno assegnati, anche perché sarebbe difficile che solo un termine di esecutivi potessero affrontare il tema legato all'Unione Europea, che è fatta anche di legislazione obiettivamente, che ricade poi nel confronto su singoli livelli territoriali. Certo su questo vi è uno dei punti che dicevo andrà sviluppato, perché non è ancora del tutto chiaro quali potranno essere i compiti non legislativi che vengono assegnati a diversi livelli di discussione nel confronto, come ho detto prima, che oggi su molti livelli amministrativi vengono demandati al sistema delle conferenze. Per questo le conferenze non devono sparire, per l'altro nella stessa Germania non è sparita la conferenza dei presidenti dei vari lender.